Bentornati in un nuovo video ragazzi, oggi io e mio fratello giocheremo in due giochi di Sirenead Il primo gioco si chiama zona pipenead, il secondo non lo so, questo inizierà Giuseppe a giocare Dai puoi iniziare, dai Start al nonno, ok c'è un ragazzo che sta andando nella sua jeep e cosa fa? vediamo cosa fa sta parlando di uno nel suo monitor non so che dice perchè io non so non so accettato io non sento niente quindi in realtà non gira il manubrio se avete gira le mani vabbè ma che giro le mani vero? ok concentriamoci sull'horror ora allora sembra esserci nulla di strano però no però se c'è un cerchio faccio faccio no non è niente la cara però ah no giusto giusto andiamo apri qua se può aprire così la bassa forse se ci passi no non ci puoi aprire non puoi aprire speriamo c'è una mappa controlla no non è niente senta le tuoni tuoni? sì sì ecco 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 vai dalla parte opposta a te dietro? sì dietro la macchina ah oppure lì non lo so c'è una freccia che indica ma non non devi andare qui forse ci devi passare eh no c'è la freccia eh? c'è una freccia che non lo indica ma quale freccia dove? quello non è una freccia lo sai ah quello non l'avevo vista niente c'è non c'è niente veramente no non so poi l'anticipo di abbassare la freccia sento ancora i tuoni non la freccia ti dice di andare la però forse ci devi passare da un'altra parte non ci puoi passare di qua giusto? ci devi passare da un'altra parte sicuramente la c'è un ricatto quindi ci per forse ci dovrebbe essere guarda qui guarda qui questa parte qua dove dice lui? dai qua di qua di qua dai sento sembra fiorge sono i tuoni no dai dai giri giri qua ma che c'è? entra dai sembra che bisogna andare di qua fai corri fai scusa fai run dai 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 e cacchio come va? pare flash dai dono c'è io vai go ok dai basta 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 si sta affinando già ecco vedi già dove? cosa sta affinando? ah ha capito ma si sta caricando ecco di qua ci doveva andare eh infatti vedi l'ho detto che è di qua sicuro vabbè lo lascio se poi dovevo scappare tipo da sirene ad vabbè certo non tenerlo sento un suono cosa? una tromba tipo una tromba? poi la vedrò nel video c'è una gomma c'è ma io c'è il seppio eh no no non toccare ok vai dove c'è il seppio ok vai dove c'è il seppio mir ho paura oh sta diventa la notte no 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 dove c'è non correre forse c'è questa c'è questa c'è c'è la nerd mi ha spaventato il seppio è sempre più buio infatti c'è la nerd oddio scappa 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 ti ha ucciso ti ha ucciso no 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 basta 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 no no raga quindi così è il gioco no che gioco bastardo no è brutto che hai capito hai capito ti fa andare da sirenead si ti fa andare da sirenead che gioco cretino no vabbè mi sono perso una paura anche se non giocavo io ora devo provare il prossimo gioco ok al prossimo gioco raga oddio eccoci però Mirko però io non voglio concludere dopo questo video voglio fare tipo una parte pure in questo e poi la fai senza fare il video facciamo il livello 1 perché gli altri ovviamente veramente faccio il video lo voglio fare perché cosa mi sembra più bello eh no non credo che sia più bello ma gioco il livello è quello della vasca no no non è quello cos'è no danno chi è quella signora forse è oddio scappiamo scappiamo è jason scappiamo no ma che sirenead 3 se qua c'è jason non è sirenead comunque vado lentissimo no ma vado lentissimo no 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 ha la maschera di jason ha la maschera di jason questa no mi ha ucciso se no terribile no vabbè no 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 c'è praticamente abbiamo giocato due giochi cretini che è quello che fanno da sirenead quello che c'è quello che c'è con la maschera di jason che sembrava una signora normale invece no vabbè 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 arretti che devo fare no io gioca tutto riguardo la signora ha la maschera di jason vero si guarda ahahah il gioco di jason che è il gioco di jason e questo è è già qui è già qui no no vabbè se quello quello che hai provato tu no vabbè già no vabbè ok ragazzi il video ci è aggiungi al termine non mi ha aggiungi al termine io voglio fare una partita qua e fare una partita qua però no vabbè questo gioco è aperto a pochi gioco non lo so io io non ci credo no no è un gioco senza senso non ha senso praticamente non non quanto è il senso di questo gioco è qua eh no vabbè se vai nel senti il rumore quando c'è lei si si senti ahhhh senti così ahhhh va bene ragazzi il video è qui aggiungi al termine se vi è piaciuto lasciate un like comunque è la se è bellino si se vi è piaciuto questo video ti lasciate like e iscrivetevi al termine l'ultima partita l'hai vista Jason? si si già l'ho vista la Jason è quella è quella che non è venuta mira Jason ecco Jason è la Jason attento a Jason allora l'attento ho paura ho paura se mi trovo Jason e io pure io pure quindi mi giro perchè sennò veramente non mi provi no mi provi mi sto vendendo a morire ho compito di video si oh no va bene dai basta se vi è piaciuto questo video raga perchè dove è passata a sirene ad aspetta signora fissa che dai e Jason vai e Jason ti ho ucciso ma che c'entra Jason in questo gioco infatti allora se vi è piaciuto questo video lasciate un commento ho capito forse Jason è il padrone di Sirenead iscrivetevi al canale e lasciate un mi piace ciao ragazzi non dimenticate che Jason è il padrone di Sirenead